ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi ragazzi sono emozionato da presentarvi il gameplay che farò di man of war 2 ragazzi io sono un appassionato di rts e giochi in tempo reali da quando giocavo al vecchio in parer poi mi sono innamorato di giochi come company virus che tutti conosceranno ed ora ragazzi provato quello che per me è l'oracolo dei giochi di rts da guerra sicuramente molti di voi diranno no guarda c'è meglio questo è meglio questo quest'altro eccetera ragazzi io in questo gioco ho trovato veramente l'emozione di provare qualcosa di incredibile un gioco veramente strutturato bene con tantissime piccole particolarità che renderanno questo gioco un fenomeno forse sto esagerando se no comunque ragazzi io ringrazio lo sviluppatore avermi concesso l'onore di provare questo gioco in anteprima e di portarvelo e vi ringrazio per la visione mi invito a iscrivervi al canale se non avete già fatto e ti auguro un buon divertimento vai ma ragazzi la prima cosa che voglio farvi vedere più o meno come funziona il gioco partendo da due semplici tutorial ok poi faremo mano a mano di video in cui vi farò vedere la campagna che si svolge in russia in america e in germania quindi partiamo innanzitutto ripeto con le basi vi faccio vedere com'è il gioco perché uno dice vabbè ma sto gioco a me sarà merda o no prima vorrei vedere come funziona io ve lo faccio vedere partiamo con l'infantry basic cioè come funziona il movimento della panteria quello che può fare ragazzi ma quello che può fare è incredibile e come sfruttano il territorio cominciamo subito ragazzi preparatevi veramente a godere allora ragazzi questo è il gioco vi dico subito che a livello di telecamera fornisce veramente tutte le opzioni disponibili qua in basso a sinistra possiamo vedere la mini mappa che possiamo anche far scomparire o cambiare la trasparenza al nostro piacimento e da qui possiamo vedere tutte le troppe nella parte sinistra potete osservare praticamente le unità ok delle singole armate che avete nel vostro protone quindi noi in questo caso abbiamo due fucilieri quello che vi sto dicendo io è quello che dice il tutorial quindi vero risparmio insomma di leggerlo ve lo spiego io movimento della telecamera ragazzi è questo quindi molto semplice con il mouse potete zoomare ingrandire e praticamente andare a vedere qualsiasi tipo di dettaglio il gioco ragazzi non è molto leggero però permette di girare nella maggior parte dei computer per lo meno moderni questa è la fanteria quindi selezioniamo un gruppo di fanteria cosa che possiamo fare anche singolarmente questo gruppo di fanteria si muoverà vedete in modo molto tattico comunque fino ad arrivare nelle zone di copertura nelle zone copertura come vedete formano una sorta di silhouette di come loro andranno a coprire quella zona possiamo interrompere tutte le azioni premendo z possiamo farli abbassare in questo modo e possiamo farli rialzare quindi già qui capite quanto tatticismo c'è potete selezionare uno o due a seconda se la vostra squadra ha un tipo di arma differente possiamo selezionare la formazione ok fin qui ci siamo ragazzi loro possono prendiamolo in modo individuale fare queste azioni qua quindi accettare granate andrà a menà a coltellate o a schiaffi non gli frega niente fanno quello che dicono loro e possono caricare possono ragazzi scavare una trincea guardate questo che si mette a fa in questo caso lui ti ho dato l'ordine di fare una mini trincea per te stesso cioè guardate il tizio che ha fatto prendiamo un altro tizio lui può fare una trincea del genere ragazzi quest'altro lo potete mettere in copertura in una zona dove c'è magari un capannone o una casa che volete volete conquistare o addirittura ragazzi lui si mette a fare le coperture con i sacchi di sabbia cioè veramente la panteria come i mezzi che poi vi faccio vedere a livello diciamo di strategia potete fare praticamente come volete ci sono altre opzioni qua come esaminare l'inventario eccetera oppure la ritirata quindi lui che farà si metterà in copertura qua ad esempio mi daremo l'ordine di abbassarsi e si metterà in copertura qua dietro magari c'è il tizio invece rimasto qua dentro quello qua scavato la sua trincea ora lo faremo uscire magari e andremo a fare le opzioni del tutorial comunque già qui ragazzi capite quello che potete fare solo con la panteria ok andiamo a vedere il combattimento prendiamo tutti i nostri pupazzi li mettiamo in copertura nei centri che ci indica tutorial facciamoli caricare guardate con quanta velocità in quanta foca prendiamo due tizi 3 le mettiamo qua andate potete dare anche la l'indicazione di dove loro devono puntare ecco sono arrivati due nemici due cammincini e torneranno triturati cioè sentite i colpi di garand che si schiantano addosso questi poracci ma ragazzi guardate i dettagli cioè guardate i buchi di proiettili i vetri spaccati cioè veramente hanno fatto un ottimo lavoro fatta questo mission cina adesso ragazzi vi porto a vedere invece come funzionano i carri non vi emozionate roppo che vi do questo subito questo input spaventoso ma è necessario per capire le potenzialità di questo gioco allora ragazzi eccoci qua il tutorial illustra già i vantaggi e gli svantaggi dei tipi di carri che abbiamo all'interno del gioco quindi abbiamo quelli a ruote quelli diciamo semi cingolati e quelli cingolati ci sono quindi vantaggi e svantaggi per esempio come dice il tutorial come effettivamente è i veicoli cingolati possono diciamo girare sul loro punto gli altri invece devono fare delle manovre quindi questo cambia ovviamente a livello di mobilità queste sono diciamo le le truppe corazzate che abbiamo disponibile quindi eccolo qua questo il carro cingolato abbiamo tutta la caratteristiche di disponibili e tutto l'armamentario come vedete abbiamo il cannone principale che monta 48 colpi da sette e mezzo abbiamo un 7 92 mitragliatori eccetera perché ci li fa vedere in questo modo perché ragazzi noi possiamo manovrarli in gioco e ora ve lo farò vedere possiamo anche scegliere il tipo di colpo che possiamo caricare nel cannone principale che è l'ap classico contro i carri poi abbiamo questo antifanteria e il fumogeno il tutorial ci dice che praticamente anche le i carri ovviamente hanno delle torrette ok quindi in questo caso abbiamo una torretta integrata questa è la torretta sopra il tank eccolo qua e quest'altro invece sparano proprio dal browning questa qua noi possiamo dirigere e cambiare la torretta a nostro piacimento guardate che figata ma lo vedete questo roba ovviamente sempre nelle possibilità del semi cingolato quindi la manovra è un aspetto molto importante guardate che figata ragazzi come vedete il caramato può ruotare sul posto questo aumenta tantissimo la velocità in cui compie l'azione cioè guardate abbiamo anche la crew dentro cioè fantastica perché ovviamente ogni personaggio di quel carro può morire e quindi siete limitati all'utilizzo o meno di alcune funzioni ora in questo caso ci stanno attaccando e non dobbiamo gestire questo combattimento da ragazzi se premete avete il controllo sul mezzo potete andare avanti indietro quindi potete giocare indipendentemente con un carro o con un altro semi cingolato selezionando uno possiamo direzionare il fuoco della torretta cioè guardate ragazzi incredibile comunque andiamo avanti cerchiamo di sconfiggere questi piccoli nemici andiamo a vedere quello che hanno loro c'è un semi cingolato leggero c'è un carro ma questo è cos'è un medio mi dovremmo stare attenti a non farci buttare via i nostri ragazzi e anche una artiglieria che sta cucurando qui arredriamo che c'è un altro carro che ci fa il fede vediamo se riusciamo a buttare giù questo e ci infiltriamo per voi prendiamo il controllo della torretta e avanziamo ok quello abbiamo un velo più distrutto prendiamo il mitra e cominciamo a triturare ragazzi guardate che spettacolo abbiamo un carro davanti la torretta è andata ok dai 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 ti è magnate qui ho mancato ragazzi ok dobbiamo ritratare un pochino avanziamo con questo quindi ovviamente ragazzi è tutto in tempo reale guardate che valordo quello devo avanzare un po' qua questi sono scesi ragazzi perché gli hanno buttato giù il carro sono abbastanza in difficoltà proviamo a tirare da questo che è un light tank doma non favo io vediamo se riesco mancatissimo ah ho fatto una finale ragazzi mi sono esposto tantissimo e mi hanno triturato vediamo se riusciamo a salvare infalbabile qui c'è un anti carro non l'avevo notato prima se non mi sbrigo mi triturano vediamo se riesco a ammazzarli con la mitraglietta ok 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 ora campa quello quello è andato ok mettiamo un giro di qua è andato dietro vediamo se riesco a curarlo faticono un po' sta caricando l'MG scuso il qualsiale dai cazzo no ragazzi non ho difficoltà ho distrutto la torretta ragazzi non riesco più con del gatto ah la presa e sta dai dai ancora c'è la torretta disponibile carica oh oh ok quello è andato vediamo se riesco a ammazzare ok c'è ancora un po' siate sotto guarda sti pezzi che merda mo' l'acciaco ah fanculo madonna che figato ma guarda c'è ancora quello chi è ok allora ragazzi ho ammazzato tutti con il carretto avete visto che figata potete comandare direttamente in tempo reale ogni mezzo fantastico ragazzi e questo è solo un assaggio di quello che fa questo gioco ragazzi eccoci qua ragazzi allora niente il primo video è finito vi ho fatto vedere proprio subito ve l'ho messo in faccia che tipo di gioco è io ci sono rimasto veramente male non me l'aspettavo di nuovo grazie allo sviluppatore che mi ha dato questo onore ragazzi di provarlo per voi sappiate che potete giocare ovviamente in multiplayer potete fare delle operazioni storiche in larga scala cioè guardate che figata delle conquiste cioè veramente c'è di tutto i raid cioè ragazzi io penso che non mi ci staccherò più e nulla fatemi sapere se questo gioco vi ha colpito se vi piace se volete qualche altro video se volete altri tutorial o cominciamo a fare qualcosa di concreto ragazzi vi ringrazio per la visione vi auguro una buona serata ciao